Il grande fratello VIP 2018 sta diventando sempre più difficile da digerire per Walter Nudo, che ha ritrovato di contro uno sprint inaspettato Balli senza freni in occasione del party a tema 20 di sabato sera, canzoni interpretate a squarciagola La caverna ha un effetto positivo sul concorrente e si è già intuito la settimana scorsa, quando ha ritrovato improvvisamente il sorriso grazie all'uscita dalla casa bella Selvaggio il nudo che vediamo sul piccolo schermo in questi giorni, anche se lontano dai livelli di Ratz Degan all'isola dei famosi Qualcosa però si sta muovendo alle sue spalle, grazie al tentativo di alcuni concorrenti di metterlo in cattiva luce Approfittando dello scontro con Lori del Santo, Silvia Provedi lo ha infatti accusato di non prendere mai posizione di fronte ad alcuna tensione Anche se in realtà ha sbagliato intervento, visto che l'ex modello stava cercando di difendere l'altra concorrente da accuse più o meno giustificate Walter Nudo sarà eliminato? Grande fratello VIP 2018, sta perdendo popolarità.Valter Nudo sta perdendo la sua popolarità all'interno del grande fratello VIP 2018 e non si parla del pubblico che continua a richiedere la sua vittoria Molti concorrenti infatti gli hanno voltato le spalle negli ultimi giorni, Donatella in prima fila È chiaro che l'ex modello rappresenta un grosso rischio per chiunque voglia andare in finale e per questo non è escluso l'uso di mezzucci più o meno bassi per metterlo in cattiva luce Non dovrebbe succedere, ma è una possibilità da non sottovalutare soprattutto per capire quanto potrebbe accadere nella cassa nelle prossime settimane Andrea Mainardi a parte, l'ex modello è stato l'unico a schierarsi in difesa di Lorin del Santo nel post diretta dello scorso giovedì Segnale che la frattura fra generazioni già presente fra i concorrenti si sia ampliata ancora di più Il guru messo alla berlina.Valter Nudo è messo alla berlina al grande fratello VIP 2018 Ha ricevuto diverse sorprese, ma tutte in collegamento e prive di qualsiasi contatto fisico Nessuno degli altri concorrenti e del pubblico sembra ricordare che l'ex modello è stato l'unico oltre ad Andrea Mainardi a ricevere alcun contatto con il mondo esterno Di sicuro la produzione sta preparando delle sorprese più grandi di quanto possiamo immaginare, ma nel frattempo dobbiamo fare i conti con la nuova nomination che vede Nudo in sfida con altri due geffini Non ci sono dubbi sul fatto che possa superare anche questo nuovo ostacolo, così come non è escluso che finisca in nomination ancora una volta questa sera Le Donatella, Stefano Sala e Benedetta Mazza potrebbero infatto decidere di attaccarlo in modo diretto Dopo tutto non ha difeso il modello dall'accusa di Lori del Santo, l'unica oltre a Mainardi che potrebbe non riservargli un tiro mancino Se Nudo non diventerà uno dei nuovi finalisti, dovremo aspettarci una piccola rivoluzione nella casa Walter è forse l'unico da eliminare al più presto, solo così gli altri finalisti possono davvero sperare nella vittoria Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like Iscriviti per non perdere le novità